Voltiamo pagina, un'intera giornata dedicata all'inclusione dei più deboli a Policoro. Per la prima volta la cooperativa Auxilium in Basilicata avvia un rapporto di collaborazione con le strutture turistiche del territorio. Sentiamo Luigi Di Lauro. Un lungo giro in barca per vivere nel modo migliore l'esperienza di una giornata al mare, ma anche una passeggiata a cavallo e l'approccio con gli sport all'aria aperta. Momenti che resteranno nella memoria di ospiti e operatori della Casa Alloggio di Vallina di Calvera e del servizio di sostegno ai disabili degli istituti scolastici di Matera, grazie all'idea della cooperativa Auxilium che gestisce le strutture che come ogni estate ha realizzato l'iniziativa. Non un semplice momento di svago ma un vero e proprio approccio terapeutico a patologie importanti come l'autismo, il deficit dello sviluppo intellettivo o i disturbi mentali. Questa giornata è proprio per far capire loro che non ci sono più barriere, non ci sono più pregiudizi, non ci devono essere assolutamente nulla perché una persona con un disturbo psichiatrico, psichico diciamo, è uguale a una persona normale che abbia un disturbo pressorico, circolatorio o altro. Un'iniziativa che non è unica nel suo genere e che da tempo vede impegnati gli operatori di Auxilium. È la prima volta che lo facciamo in Basilicata ed è, devo dire, grazie a quest'uomo straordinario che si ci sbonda Mangialardi, a tutti gli operatori del circolo velico perché farla il 10 agosto ha un valore notevole, non a inizio-fine stagione ma nel pieno della stagione. Sono questi gesti di generosità che fanno crescere le comunità perché una società civile è quella che vede camminare fianco a fianco le persone in difficoltà e le persone che stanno bene, anzi, normalmente le persone in difficoltà un passo avanti.